Siamo stati gli unici ad averla battuta, è un motivo di grande orgoglio per noi. Ricordo benissimo quella giornata, ricordo ogni momento, è stata una partita veramente emozionante. La Juventus che prende tre gol e circa sei minuti, è una cosa incredibile. Cercheremo di ripeterci, comunque la cosa importante da parte di questa squadra è che metterà sempre veramente il massimo dell'impegno all'interno del rettangolo del gioco. E questo è quello che ha dato la nostra forza, insieme alla nostra proprietà, alla famiglia di Napalle e ai nostri riposo. E' questo che ci ha ricongiuto.